Uomini e donne Uomini e donne News, Alessandro D'Amico felice dopo la scelta di Alex News Uomini e donne, Alessandro D'Amico pubblica un messaggio dopo la scelta di Alex Migliorini. Alessandro D'Amico a Uomini e donne è la scelta di Alex Migliorini. Il protagonista del Trono Gay ha deciso di lasciare il programma insieme, prendendo una decisione tra Alessandro e Claudio Merangolo. Ad avere la meglio è toccato ad Amico, il quale appare super felice sui social. Infatti, l'ormai ex corteggiatore ha deciso di condividere con i suoi fan la sua gioia nel vivere la nuova storia d'amore con Alex e lo fa attraverso Instagram. Sin da subito, Alessandro ha colpito l'interesse di Alex. Per molti telespettatori sembrava ormai scontata la sua scelta, da parte del Migliorini. Quest'ultimo ha sempre dimostrato di avere un debole perd'amico. Nel frattempo, ha portato avanti la sua conoscenza anche con Matteo e Claudio. Ma i due non sarebbero riusciti a conquistare il cuore del bel tronista. Alex e Alessandro ora sono pronti a vivere la loro storia d'amore, lontani dalle telecamere. Il programma di Maria De Filippi gli ha permesso di conoscersi, ma la vita fuori dallo studio è ben diverso. . Dobbiamo ancora attendere per scoprire come proseguirà questa storia, ma per ora sappiamo che Alessandro è felice di avere tutto per sé il suo Alex. . Non potete capire quanto sono felice. E questa la frase che Alessandro ha condiviso sulle storie d'Instagram dopo la scelta di Alex. . Il tutto è accompagnato da una faccina sorridente, da un cuore tenuto tra due mani e da un topolino. . Eh sì, perché d'amico da sempre chiama Alex il mio topolino. . Ora Alessandro si può finalmente godere la presenza del migliorini lontano dalle telecamere. . Ma, soprattutto, annuncia di essere tutto di Alex, tutto tuo ora. . Alex Migliorini sceglie Alessandro, d'amico condivide la sua felicità con i fan. . Si tratta di una notizia che non può che far felici i fan della coppia, soprattutto il pubblico che da sempre sostiene Alessandro. . Nel frattempo, anche Claudio Merangolo ha detto la sua dopo la scelta di Alex. . L'ex corteggiatore appare sereno, anche se purtroppo non è toccato a lui uscire dal programma insieme al migliorino. . . Nonostante ciò, Claudio ringrazia tutti per questa esperienza vissuta all'interno del programma. . . . . . .